Che cosa avviene quando uno strumento si appresta ad essere usato dalle guide? Voi sapete, perché vi è stato detto più volte, che ognuno di voi non possiede solamente il corpo fisico, ma anche dei corpi sugli altri piani di esistenza. Ecco così che ognuno di voi ha un corpo astrale, un corpo mentale, un corpo acasico, coscienza e in senso generico un corpo spirituale. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.